Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sarebbe una trattativa segreta, un accordo segreto tra Salvini e Letta. Letta ci prova, sta cercando di fregare Salvini un'altra volta, ci è già riuscito prima, dice perché se ci sono già riuscito ci posso riuscire un'altra volta. Adesso vi racconterò in quello che sta per cadere Salvini in questa trattativa segreta. Allora, voi sapete che Letta ha fatto rieleggere Mattarella, quello che la sinistra aveva eletto sette anni prima, quel signore che poi ha impedito il governo Salvini 1 dicendo non si può votare, vi mando Draghi. E Salvini nonostante questo ha dato retta a Letta e ha fatto rieleggere Mattarella, quello che gli ha impedito di governare, incredibile. E' quello che oggi impedirà in tutti i modi un nuovo governo delle elezioni anticipate. Letta dice, l'ho già fregato una volta, adesso lo frego un'altra volta, mi metto d'accordo con lui per la legge elettorale, facendogli capire che così lui frega la Meloni. Eh? E invece sono io che frego lui. Come Letta frega Salvini? Allora, Letta gli fa capire a Salvini che la nuova legge elettorale può fregare la Meloni, può diminuire la forza della Meloni. Invece l'obiettivo di Letta è un altro. Letta gli dice anche a Salvini, guarda, non ascoltare. Qui, oggi, c'è una legge elettorale con la soglia di sbarramento al 3%. Il paese non diventa ingovernabile perché noi alziamo la soglia di sbarramento al 4%. Quindi, altro che ingovernabile, alziamo la soglia di sbarramento e tanti partiti rimangono fuori. Rimangono fuori. È una cosa migliore. Tutti quei partitelli lì vanno a quel paese. E Salvini probabilmente dice, beh, caspita, non è malvagia questa legge, indebolisce la Meloni, alza la soglia di sbarramento e tiriamo fuori tutti quei partitini. Insomma, quasi quasi mi metto d'accordo con Letta e votiamoci questa nuova legge elettorale. Ma qual è il trucco di Enrico? Allora, l'unico modo per contrastare il centrodestra è cercare di fondere tutti i partiti del centrosinistra in un unico soggetto dove sempre lui è a capo, per evitare che vada ognuno per conto suo. Come fare a fondere tutti questi partitini che oggi un po' hanno intenzione e altri no? Come fare a far fondere magari Renzi, Calenda, farli tornare indietro? Come si fa? Eh, caspita, visto che Calenda, Renzi sono lì, Calenda è intorno al 4%, Renzi al 2%, 2,5%. Se noi alziamo la soglia di sbarramento, questi non entrano più in Parlamento. Allora, se cambiamo la legge elettorale, questi poi si fondono con il PD piuttosto che perdere lo stipendio. E' questo che non ha capito Salvini. Il gioco di Letta è quello di cambiare la legge elettorale prima delle elezioni per far sì che tutti i partitini di centro e centro-sinistra si fondano di nuovo col PD per non rimanere senza stipendio. Tutti uniti contro il centro-destra. Questo che non ha capito Salvini, dov'è la fregatura? Salvini di che cosa si avvantaggerebbe con una nuova legge elettorale? Forse un vantaggio su Fratelli d'Italia? Forse un depotenziamento di Fratelli d'Italia? Forse. E questo invece, dall'altra parte, Letta ha un vantaggio. Perché se Letta va con l'attuale legge elettorale, tutti questi partiti piccoli cercheranno di entrare in Parlamento da soli. Dai che superiamo il 3% e entriamo in Parlamento. No, non ci alleiamo con Letta. Se invece la legge elettorale si cambia prima, alzando la soglia di sbarramento, questi, prima delle elezioni, si fondano di nuovo col PD per il posto di lavoro. Perché così, se no, con il 4% non entreranno mai in Parlamento. Questa è la fregatura. Ma la modifica della legge elettorale potrebbe essere a portata di mano. Il progetto finale che metterebbe d'accordo tutti, quelli in maggioranza, potrebbe essere più vicino di quanto non appaia. Fino a qualche settimana fa, in Transatlantico, c'era pessimismo rispetto a una riforma da approvare entro la fine della legislatura. Invece negli ultimi giorni c'è stata un'inattesa accelerazione. Non solo nelle dichiarazioni pubbliche. I canali tra i partiti sono aperti e si intensificano a tutti i livelli. La soluzione di cui si sta parlando in queste ore, soprattutto tra PD e Lega, è infatti una virtù non da poco. Basterebbe un articolo di una sola riga a modificare l'attuale legge, il Rosatellum. L'idea è questa, limitarsi a abolire la quota maggioritaria dell'attuale legge, quel terzo di parlamentari assegnato nei collegi uninominali. Il Rosatellum, infatti, prevede che gli eletti siano scelti per due terzi secondo una ripartizione proporzionale tra le coalizioni o tra le liste che hanno superato lo sbarramento del 3%. Ma è proprio qui il punto. L'accordo prevederebbe proprio l'innalziamento di quella soglia dal 3 al 4%. Però Letta fa finta di no, no, quello, ma sì, ma non importa, noi lo facciamo per la quota maggioritaria, i collegi uninominali. Cioè, sta cercando di far vedere a Salvini un'altra cosa, che lui si sta concentrando su un'altra cosa. Invece poi gli mette dentro dal 3 al 4% e dice, ma no, ma quella lì, sì, così, ci sono meno partiti, è più semplice. Invece è proprio quello l'inganno che Letta sta cercando di camuffare, di non far vedere a Salvini. Dal 3 al 4, sì, beh, ma quello è per scartare i partitini e così. Ma è proprio quello che vuol fare Letta, è proprio quello il fulcro. Far sì che i partitini si fondano prima delle elezioni con lui, per fare questo famoso campo largo, che serva a lui e al PD per andare a vincere le elezioni. Perché l'unica possibilità di poter competere con le elezioni non è di convincere l'elettorato, perché l'elettorato è quello, è sparso in tanti partiti, è di riunire l'elettorato alzando la soglia di sbarramento per l'entrata in Parlamento. Avete capito qual è il giochino di Letta? Sembrerebbe che Salvini forse, forse non l'ha capito, forse nessuno gli ha fatto presente che Letta sta cercando di fare questo giochino. Ma Letta è forte del fatto che ha già incartato su una volta Salvini con Mattarelli, ce lo faccio anche con questo, è così facile fregare Salvini, no? Quello parla parla e poi... Eh sì, perché Letta è furbo, Letta ha dimostrato di essere un gran furbacchione, un gran furbacchione, ha fatto eleggere il Presidente della Repubblica che ha voluto lui, e vi sembra poco? Ma vi sembra poco questo? Non è poco, direi proprio che non è poco. Ha dimostrato di essere più furbo di Salvini e di tanti altri. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.